0-0, arrivò nel pallone preso al campo e c'era Bruno Pinzio nella zona nevralgica del campo con Ambrosini che cerca la conclusione della distanza, non ha mai avuto un grande tiro né quando giocava né tantomeno adesso li faccio male è meraviglioso, è caldo, infatti sono contento di essere qua davanti a questi ragazzi fantastici, arichi è una bella esperienza e anche da un punto di vista calcistico aiuta, è una bella situazione emotiva, è da adrenalina il motivo del 0-5 sia la mia presenza con lì vicino a Ambrosini